Un film di Mario Martone. Troisi è veramente un grande regista. Evento speciale al Festival di Perlino. Totò, Peppino, Massimo, Stalleoglio, Chaplin. Chi è più bravo tra quei due? Ma credo, non esiste, non ho discorsi. Il cinema di Troisi per me era bello perché aveva la forma della vita. Facciamo questo film per riascoltarlo, rivederlo, stare con lui. Ragazzi, io vado incontro alla vita, come tutti quanti. Laggiù qualcuno mi ama. Solo al cinema.